Ciao creatura, io sono Ecati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kusai e SMA. Ho la finestra aperta, quindi hanno iniziato a trapanare le campane, sono 20 minuti che suonano, da quando mi sono seduta ho fatto play e ho dovuto aspettare un sacco e non stanno zitte e ovviamente adesso si metteranno tutti vicini con i cani sotto la mia finestra, ovvio, c'è Sam fuori e l'avevo chiusa fuori e ho iniziato a grattare, però se apri non entra, quindi ho lasciato la finestra aperta anche perché mi è entrata. Ho fatto un po' di ossigeno in camera, però c'è questa situazione fuori, cioè che c'era silenzio fino a un secondo fa, ho fatto play e hanno iniziato a trapanare, adesso stanno trapanando, spero che non si senta troppo o che non si senta, però o così o così perché volevo fare lo stesso video ieri ma trapanavano e quindi ho detto beh ma se trapanano tutti i giorni io questo video non potrò più farlo, quindi ok, facciamolo lo stesso e vabbè la perfezione, lasciamolo a un altro canale. Allora, se sentite il casino c'è Sam che sto giocando con una scatola fuori. Vabbè, allora questo è un mini haul, ti spiego cosa è successo. Mi hanno dato un appuntamento di lavoro, diciamo, che riguarda il lavoro con tutti i giorni del mondo, con tutti i giorni della settimana, con tutti gli orari che ci sono. 24 ore in una giornata mi hanno dato proprio martedì mattina dalle 9 alle 11 che è l'orario in cui io vado al mercato a farti video, anche perché il mercato c'è praticamente dalle 9 a me stogiorno, 11 e mezza. Perché adesso, visto che c'è troppo caldo e iniziano a sbaraccare tutto dalle 11 e mezza, ma porca miseria. Quindi, ho detto vabbè, c'è proprio lo stesso. Sono riuscita in mezz'ora a acquistare solo due cose, perché le bancarelle, quelle belle, quelle maglie, quando sono arrivata stavano già mettendo via le cose. E poi mezz'ora non riesci a fare bene, a guardare bene, a goderti il mercato. Sono uscita alle 11 e mi sono catapultata subito al mercato, avevo un pezzettino di strada da fare a piedi. E, fortunatamente, era un incontro in centro a Rovigo. E, però, appunto, in mezz'ora due cose ho comprato e non ho fatto video, perché è stata affelata quel caldo che c'era. Quindi ti faccio questo mini haul per restare comunque nella nostra tradizione del martedì. Spero di riuscire ad andare al mercato martedì prossimo. Che casino. È entrata Sam, così quasi, visto che è entrata Sam, chiudo la finestra. Ok, mi sembra ci sia meno casino, meno chiasso. Sono chiusa completamente in stan, stassi, diventerò rossa, cambierò colore, spero, è perché c'è la ring light che fa caldissimo. Ma, dettagli, per te questo è d'altro, creatura. Vabbè, continuando il mio discorso, l'unica bancarella dove ho acquistato, è quella classica mia, solita, delle t-shirt a due euro. E ho provato questa maglia molto vintage, devo dire, perché andavano di moda quando ero io, adolescente, e, sì, sullo stile t-shirt delle band, perché le vendevano sempre lì, anche su negative e cose del genere. Che poi io l'ho acquistata in realtà da regalare, però se la persona in questione non la vuole, me la tengo io, perché tanto è larga e la posso usare anche come pigiama, camicia da notte, anche volendo. L'ho usata poi la camicia da notte, è molto comoda, effettivamente, volevo prenderne un'altra, ma non c'erano più, non ce n'era neanche più una. Poi in questo periodo c'è anche il rischio che non ci siano alcune bancarelle, perché sono in ferie, quindi è anche quello un po' più sad per i video. Però vabbè, dai, risparmiamo qualche euro. Non so se sto mettendo a fuoco, chissà di no. Vabbè, ha la modica cifra di 2 euro. Ho preso. Davanti a questo motociclista tipo Ghost Rider, senza il testo invocato, con questo biker, con un chopper e uno scheletro, con una catena in mano, sì, sembra proprio Ghost Rider, però versione non invocata. Non so mica cosa sto inquadrando, perché non sto vedendo nulla. mi sono troppo, troppo, troppo abituata agli occhiali da vista e non vedo niente senza farlo. C'è proprio, 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 c'è proprio. Ed è... marca Spiral. Se c'è scritto Spiral. Sto arrivando un elicottero, cosa sta succedendo fuori? taglia XXL. Quindi bella comoda. E c'è anche il retro disegnato. E' proprio da rimanenza di magazzino, perché è un po' consumatino, ma quel, 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 quel giusto, capito, da, da renderla vintage. Non riesco a capire se la sto mostrando bene, ma vabbè, comunque, bella. A me piace, ovviamente, passo da un vestito rosa da principessa a questa maglia, c'è qualcosa che non va, ecco. Come al solito non sono centrata, ma questo è l'ultimo dei miei problemi. Mi sono un attimo fatta una specie di make-up, però si sta sciogliendo. Non l'ho fissato perché tanto dopo il video lo tolgo. C'è troppo caldo in questi giorni per vivere. Quindi i più fortunati sono quelli che lavorano in ufficio e stanno con l'aria condizionata 8 ore. Quelli sono i best privilegiati dell'estate. E poi c'era questa bancherella che ha ogni volta che io non riesco ad andare al mercato. Lo so perché ogni volta che io non riesco ci vanno altre persone che mi dicono Ah, guarda, c'erano i ventagli a 2,50 euro. Io, ma come? Ogni volta che vado in quella bancherella non ci sono. E ogni volta che io non vado al mercato o per qualsiasi motivo non riesco a raggiungere il mercato. E poi ho scoperto perché questa volta che non sarei riuscita ad arrivare al mercato perché avevo questo incontro. E però ci sono scataiolata dentro. Ho finito l'incontro alle 11.00. E infatti li avevano. Però una signora cosa aveva pensato di fare nell'istante in cui sono arrivata io? Comprare tutta la scatola. E io sono riuscita ad arrivare a fare questa. E infatti il piace, sono molto orgoglioso di me perché la vecchia mi ha guardato con una faccia che se avesse potuto spararmi qualsiasi cosa in fronte e cecchinarmi all'istante l'avrebbe fatto. E però non hai capito già. È troppo tanto. Se non mi uccidi io riesco a comprare. Ho preso un ventaglio che ti spiego perché l'ho comprato. A parte che è già calda quindi già questo è un ottimo motivo. Ma poi io volevo fare tutta la cool. Perché se lo dico in italiano suona male. Al femminile. Fico al femminile ok? E tempo fa su Hushin mi pare. Mi ero comprata un ventaglio gotico. Tutto col pezzo. Bellissimo per carità. Bellissimo. Ma non fa fresco perché essendo pizzato. Nel senso che ha il pizzo quindi c'ha i buchi. L'aria passa. Cioè nel senso vado per fare così. Però l'aria passa attraverso i buchi del pizzo e non fa fresco. Quindi bellissimo ma totalmente inutile come ventaglio per farti fresco. È solo bello estetico. Quindi sì ok. Però ecco a te stavolta è topato. Molto bello per carità. Però non fa fresco quindi inutile. Ma non avevo pensato a quella cosa. Io non ho calcolato che essendo di pizzo non avrebbe fatto fresco. Quindi l'ho preso nero. Anche stavolta però non di pizzo. In più questo proprio per forza per forza deve fare fresco perché è di legno. Non è né di stoffa né di tanto meno di pizzo. Che bello che è. 2 euro e 50 questi proprio regalato perché di solito partono dai 5 euro in su di legno. Questo è bello perché appunto è di legno. C'è fiori. C'è fiori. Tralasciando che c'è fiori. Quindi fiori uguale è che ti compra. Lo posso abbinare a qualsiasi mia camicia perché c'è fiori. Modestamente. Oddio che flash che mi è venuto. Si abbina un sacco al mio kimono. Allora sabato me lo porto via. Ah che fresco. Sa un po' da. Sa da vernice tipo. Ma non è. Oddio non sarà mica dipinto a mano spero di no. Cioè spero di no. Nel senso che 2 euro e 50. Odora un sacco di vernice. Oh mio dio. Sai forse hanno hanno spruzzato quello da quella trasparente protettiva. Ah quell'odore lì. Eh forse si. Hanno spruzzato quello. Ah che fresco. Si adesso si che è. Che sto bene. E' bellissimo. Se. Se avessi le unghie potrei fare. Il tapping. No. C'era di tutti i colori. Giallo. Verdi. Io lo volevo verde anche. C'era un bel verde tipo. Quel verde che piace a me. Al pen green. Ma non sono uscita. Cioè ho dovuto arraffare il primo che ho. Nero. Che l'ho indirizzato subito. Perché questa qua. Pazza. C'è con molta la scatola. Probabilmente li rivenderà dopo. Perché 2 euro e 50 all'uno. o ingorda. E li volevo a tutti di tutti i colori. Capito. Quindi io niente. Alla fine ora ho fatto questo. E via. Il piace. Dovresti mettere. Se non sarà già addormentato. Siamo a 16 minuti. Dovrebbe mettermi like. E riguardare i video mille volte. Solo per questo. Eh. Non c'era tempo di fare il video. Dovevo raffare. Mi dispiace. Allora. Ti raccomando delle cose. Finché mi sventi. Ci svento. Vuoi che ti sventano? Tieni. Ah. Che bello fresco. Fresco fresco. Senti. Ah. Già solo suono. Dell'aria. Mi fa fresco. Allora. Mi fa anche un bel suono. Perché. Domani se non. C'è tutto sto casino. Vorrei provare a fare dei video. Col 3D. O con degli effetti sonori. Se vedrai questi video. Allora sarò riuscita a farli. Saranno venuti bene. Altrimenti sono le visti. Già hai capito. Allora. Ti racconto. Una cosa del mercato. Ah sì. Ti racconto anche questa cosa di sabato. Probabilmente poi. Chi mi segue su Instagram. Vedrà delle foto. Forse. Non lo so. Ho deciso l'outfit. Per il mio kimono. E l'ho completato. Adesso. Con questo. E. Perché mi ha fatto il flash. Adesso. Aspetta. 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 Allora. Ah. Per la festa di compleanno. Di mia sorella. Mi sono messo un vestito. Eh. Che. Ho messo la foto su Instagram. È un vestito. Però. Si vede. Sono seduta. Quindi non è che si veda chissà cosa. Magari proverò. A farmi una foto. Un po' meglio. Sabato. E. Al mercato. Prima di iniziare a fare i video. Su YouTube. All. Del mercato. Mi ero comprata. Questo vestito. In una panchera. A 50 centesimi. Ed è. C'ho la pancia che è prontola. Ok. Così mi piace più in quadratura. Eh. Ed è un vestito. Eh. Di seta. Di quelli. Tutti. Struppeggiati. E. Che non ci hanno bisogno di essere. Eh. Stirati. Quindi top. Bello. Leggero. Fresco. È. L'unica cosa che è. Manicato. Ed è. Un verde. Un verde. Un verde oliva. Bottiglia. Non lo so. Vedrai. E. Chiaro. Comunque. Tutto. Di un colore. Tutto. Di quel colore lì. Eh. Lungo. Sì. Sono lungo. E. Siccome. Mia mamma. Fa la festa di compleanno. Come già sai. Perché avrei visto il video. Dove. Eh. Ti ho mostrato. Il vestito. Che l'ho preso. E. E. Siccome fa una specie di. Apericina. Però. All'aperto. Allora. Ho pensato. Anche se ci saranno 15.000 gradi. Ma. Sai che io. Devo essere sempre dentro. All'outfit. Quindi. Morirò di caldo. Ma avrò. Quindi. Tutto. Torna. Volevo mettermi appunto. Quel. Quel. Quel vestito lì. E. Sopra il kimono. Siccome è verde. Il vestito. Il kimono. Ha. Qualche. Decorazione. Qualche. Ricamo. Verde. E. Di fiori. Così. Questo è nero. Con. I fiori. Quindi. Secondo me. Sarò. Fashion. Super aesthetic. Sarò. Troppo aesthetic. E. Bello. E quindi. Anche se morirò di caldo. Perché avrò. Che in realtà. Sarò tutta vestita. Vestito di seta. 50 centesimi. 2 euro. Il kimono. Di. Che abbiamo letto. Che è quella seta. La. Quella cosa che costerà di più. Che avrà addosso. Sarà il ventaglio. 2 euro. 50. Addosso. Tra virgolette. In mano. Vabbè. Facendo parte. Dell'outfit. Ok. Mi piace. Che. Posso. Vestirmi. Gotica. Ma posso vestirmi. Anche. Molto aesthetic. Con cose. Che compro. Al mercato. A un euro. O due euro. Così. A pochi euro. Diciamo. E combino insieme. Viene un look figo. Queste sono le divinità. Allora. Ti racconto. Che. Eh. Sono già due volte. Che vado al mercato. Eh. Successo la scorsa volta. E la volta ancora prima. Non questa qui. Ma la volta scorsa. Volevo raccontartelo. Poi mi sono dimenticata. Nell'altro video. Ma avevo più cose da mostrare. Quindi. Era quello importante. Eh. E. Io vado. In giro. Con lo zaino aperto. Perché. Praticamente. Cosa faccio. Parcheggio. L'azzo. Metto le chiavi. Dentro. Alla taschina. Dello zaino. Chiudo quella zaino. Lì. E poi. Mi dimentico. Di chiudere quella grande. Che chiude lo zaino. Genio. Non so. Per quale motivo. O forse sì. Perché sono. Una sbadatona. Ma vabbè. E. E. La seconda volta. Che. Vado in giro. Per tutto il mercato. Con lo zaino aperto. E. Nessuno mi dice niente. Ma soprattutto. Nessuno mi frega niente. Perché. In quella tasca lì. L'altra volta. Avevo. Le chiavi di casa. Le chiavi della macchina. Il telefono. E. Vabbè. Altre cose. Che. Tipo. Anche se mi fregano. Quello. Non succede niente. E io. Tranquillamente. Che rumavo. Guardavo. Che giravo. Per il mercato. Poi. Quando me ne accorgo. Me ne accorgo. Quando vado per. Per togliermi lo zaino. E prendere il portafogli. O. O. Lì vado. In paranoia. O. Adesso mi avranno fregato tutto. Invece. Che. Nessuno mi ha aperto lo zaino. Io non l'ho chiuso. E nessuno mi ha messo le mani. Perché ha sempre tutto dentro. Però dai. Spero di. La prossima volta. Di essere più attenta. Perché insomma. Due. A volte. Già. Mi è andata bene. Però questo. Mi fa capire. Che forse. Il mio paesino. Paesino. Insomma. Rovico. Non è poi così. Ehm. Al mercato. Ehm. Non è così. Pericoloso. Diciamo. Ehm. Cosa che invece. Se. Andassi. Da qualsiasi. In qualsiasi. Altro. In qualsiasi. Altra città grande. Mi avrebbero. Ci ha rubato. Anche le buttande. Ma. Vabbè. Ehm. E quindi. Niente. Si può. Girare. Tranquillamente. Per il mercato. Di Rovico. Perché non. Nessun ti fotte. Niente. Bella. Sono contenta. Ehm. Però di sera. No. Di mattina. Il mercato. Si gira. Tranquillamente. Insomma. Una bella. La comfort zone. Devo dire. Però. Insomma. Meglio che ci stia un po' più a tempo. Alla prossima volta. Ehm. Le prossime volte. Ehm. Insomma. A me è successo queste cose. Spero di no. E. Ehm. Invece. Ehm. Un'altra cosa. Che mi è successo. Spesso. In questo periodo. Che. Qualcuno. Potrebbe dire. Ehm. Che. Potrebbe essere una cosa paranormal. Qualcun altro. Invece. Potrebbe dire. Ehm. Che. Insomma. Succede. Ehm. Questa videocamera qui. Che. Ce l'ho da. Un botto. Che ha. Tipo. Nove anni. Sta videocamera qua. Non è neanche. Se tu la cerchi. Non c'è più in commercio. Per dirti. Da quanto è vecchia. Ehm. Non la trovi neanche usata. Perché ho controllato. E. Ehm. Ogni tanto. Ehm. La trovo accesa. Si accende da sola. Ehm. Allora. Ehm. Pensavo. L'ho trovata accesa appunto. Molte molte volte. Io la vado per rispegnere. La esseri accesa. Si accende da sola. Io ti la spingo. Le si riaccende da sola. Allora. Pensavo fosse un contatto elettrico. E ho staccato. Perché. Siccome la batteria legge pochissimo. Ormai. Perché è vecchia. Ehm. La tengo quando registro a casa. Ehm. Attaccata al cavo. Allora ho detto. Forse c'è qualche contatto elettrico. E allora. Ehm. Ho provato a staccare. Il cavetto. Si accende da sola. Lo stesso. Allora. Adesso. L'unico modo. Per. Non. Far sì. Che sto accendo da sola. Perché comunque. Mi mangia. Batteria. Mi mangia. Elettricità. Per niente. Tiro via. Il cavo. E stacco la batteria. Allora lì. Proprio. Non si riaccende più. Penso. Perché dopo. Non so. Se si accende. Quando io non ci sono. No. Sarebbe impossibile. Però. Allora. Lì. Se. Pensare proprio. Che. Potrebbe essere. Una cosa paranormale. Che senza. Batteria. E senza. Elettricità. Si accende lì. Proprio. Allora la porto. La. La chiesa. Della Madonna. E la faccio benedire. Vorrei portarti. Un. Giorno. Alla. Chiesa. Della Madonna. Nera. Si chiama proprio così. Che. Tra l'altro. È. Una divinità. Cristiana. Diciamo. Però. È presa da. Una divinità egizia. Per quello. Anche mi sto simpatica. Poi. Nera. Quindi. Una Madonna. Diversa. C'è. Dice. In italia. La presenza. Della Madonna. Nera. In una chiesa. Può derivare. Dall'antico culto. Della divinità. E. Comunque. A. Lentinara. C'è. Questa. Chiesa. Che credo sia. La più bella. Di tutte. Quelle. Che ci sono. Nel mio paese. Che. Ne sappiamo. Ne sappiamo. Molto. A riguardo. Che comunque. Penso sia. La più bella. E. Perché. E. Vabbè. Entri. E' una chiesa. Normale. Però. A sinistra. C'è. Una specie. Di. Corridio. 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 E. Ulteriori stanze. Dove. Praticamente. Nel corridoio. Diciamo. Chiamiamolo così. C'è. Una specie. Fontana. Dove. C'è. L'acqua benedetta. Le persone. Ci sono. Proprio. Picchierini. Di plastica. Dove. Tu puoi bere. L'acqua. Oppure. C'è chi. Riti. Diversi. C'è chi. Si prende le bottiglie. Per. Per. Benedire. Qualcosa. A casa. Non lo so. Mio papà. Per esempio. Si bagna gli occhi. Perché. Su. Zio. Lo faceva. E. Insomma. Poi. puoi andare lì a birra. Anche per. Non lo so. Benedirti. Non so. Adesso bene. E. E. Poi. C'è una parte. Che è la mia parte. Preferita. E. Dove. C'è. Una. Un altro. Punto. Dove puoi. Precare. Con un altare piccolo. Dove. Però non fanno la messa. E c'è una fontana grande. Con tutti gli angioletti. E lì mi portava la suora. Che io ero la detta. Quella. Accendere la fontana. Quindi. Gli ho detto a mio papà. Io so accendere la fontana. Ma si. Come si fa. Gli ho fatto vedere. Dove era il. Cosa. Che. Hanno cambiato. Rubinetto. Poi. Adesso. Hanno messo uno. Un po' più moderno. Ce n'era uno diverso. Quando ero piccolo. Io però stesso. E. Quella fontana. Lì non l'ho più vista accesa. C'è fresco. E. Sta passando. Un trattore. Non so. Comunque. E. E. E' bellissimo. Lì ci sono. Tutti i dipinti. Che ogni dipinto. Raffigura qualcosa. E anche tutte le finestre. Sono dedicate. A. Paesini. Accanto. A. Chiese. Chiesette. Di paesini. Che stanno all'intorno. E. Fatti tutti i dipinti. Colorati. Bellissimi. Infatti. Non so. Posso. Secondo te. Fare qualche video. Col telefono. Se mi fingo. Tipo. Una turista. Secondo te. Perdona. Sono fuori. Adesso. Finiamo il video. Che poi. Quella è la famosa chiesa. Dove mi sono bruciata. Entrando. E tutti mi hanno. Pensavano fosse il demonio. Non mi ricordo con chi ero. Forse con mia mamma. E ero vestita metallara. Cioè. Una maglietta. Di una band. Forse. Vabbè. Pantanoni neri. E. E. Sono andata. Per aprire. La porta. E. Siccome. Le porte. Sono di legno. Ma hanno. Le maniglie. Di ferro. Sarà stato caldo. E. Sarà stata. Al sole. Non lo so. Comunque. Mi sono scottata. Cioè. Mi ha fatto proprio. Tanto male. E tutti. Mi hanno guardata. Come se fossi satana. Che voleva entrare in chiesa. Ma non poteva. Perché appunto. Benedetta. Capito. Lo so. E quindi. Mi ha fatto sorpori. Da sta cosa. E. E poi. Non. Sono entrato. Lo stesso. Perché mi ha aperto. Qualcun altro. Insomma. È stata proprio divertente. Quella scena. con l'ospedita. Douglas. Con l'ospedita. Al prossimo. Lasciando questo. Sono entrata. È stata mia compagnia. Questa sera. Io ti auguro. Come sempre. Unda notte. Buon relax. ciao creatura c'è pure la sedia che cicola